Vuoi fare un video? Sto facendo il video. Allora, apriti con il braccio. Hai paura? Hai paura di stare su? Mattia sto facendo il video ma devi fare qualcosa. Fai così con la gamba. Così. Vabbè dai, monta su, monta su. Adesso hai paura. Monta su, metti dove sei salito prima. Vabbè non è un video molto interessante però se stiamo qui fermi due ore.